ciao a tutti ragazzi sono argo monica ed eccoci qua nella decklist dei paladini reali allora ragazzi premesse il mazzo purtroppo non è completo perché mi mancano le 3pr è una mia versione che comunque già c'è stato ovviamente come tutti diciamo le versioni è un po' rivisitata magari più che altro perché ragazzi veramente il fatto di barkgal nei paladini reali è stato brutto non trovo altre definizioni purtroppo non riesco ancora a far emergere questo mazzo è stato brutto veramente ragazzi perché purtroppo sì è vero non è molto forte rispetto a già un paladino dorato o qualsiasi altro deck io comunque non mi arrendo io continuo a giocarlo perdo perché perdo sempre contro monica perdo con i paladini reali mischini però sto cercando di farlo girare al meglio tra l'altro ho qualche carta che adesso vi faccio vedere vabbè questa che abbiamo sbustato poco fa e poi ci sono delle carte promo che sono riuscito a scambiare dal mio amico che in teoria sono molto difficili comunque da reperire appunto perché sono da negozio che comunque saranno penso la scelta definitiva purtroppo perché non ho altre soluzione allora vabbè iniziamo col grado zero ragazzi ho messo questo grime perché barkgal è inutile che lo gioco perché sì ok non posso cioè lo potrei giocare e non sfruttare il suo effetto però no il pifferaio magico mi sta antipatico come si chiama io mi ricordo quindi gioco lui niente mi rimane nell'anima perché comunque in questa diciamo deck che ho fatto mi serve averlo nell'anima quindi aspettate questo è qui allora vangar lui poi passiamo agli inneschi vabbè sono i soliti ma li sto provando sto valutando di giocare o gli otto critici o addirittura anche 16 lo vediamo comunque le quattro lane la cura per forza perché ci vogliono i critici momentaneamente gioco epona quattro critici penso che servano ripeto vorrei giocare di tua otto vediamo sto valutando appunto per adesso con o i risvegli o le pescate risvegli però ho messo questi tre con effetto che li metto nell'anima e scelgo il mio paradino reale e aumento di 3000 i danni perché lo gioco perché ho fatto questa versione nel caricare l'anima anche se in realtà mancano ancora purtroppo qualche carta e poi come pescata gioco lui che è la bestia elevata perché così ho un grado 2 a cane che mi permette di scegliere una qualsiasi bestia elevata dal mio deck e la posso schiararla in una R libera lui comunque va nell'anima e posso aumentare di 3000 mi all'attacco non giocate due e momentaneamente le tre pescate standard ora queste cinque pescate ho i risvegli devo vedere come gira quindi devo fare le prove e vorrei sostituire con i critici quindi mettere come si chiamava il biondino della combo non mi ricordo o magari poi lo scrivo qua sotto ah e elev futuro cavaliere ok che in teoria ne ho due un terzo mi sta arrivando anche quindi poi vediamo quindi comunque 16 inneschi soliti passiamo ai guida di 1 allora guida di 1 e qua adesso c'è un po' di un po' di misto ecco allora gioco ripetrisce dei sogni praticamente un 6000 ovviamente che può sopportare quando viene messa in vanguard o retroguardia poi se ho un vanguard paradino reale scelgo fino a un paradino reale dalla mia mano e lo metto nell'anima mi serve perché come vi ho detto gioco a caricare l'anima poi 3 di marron che ancora non mi hanno fatto un 8000 migliore quindi mi devo tenere a questo mamma mia quando non lo sopporto è brutto ragazzi è veramente brutto poi 3 wingle che vabbè quando sopporta il distruttore di lame aumenta di 4000 il suo attacco ne gioco due normali e una in versione promo che sono riuscito a trovarlo e l'ho preso immediatamente anche perché è carino dopo di che gioco 4 di snoggle allora come vanguard prima utilizzavo brugal che serve con un grado 3 o il grado 2 che c'ho anche nel deck però ho voluto sostituire tengo praticamente scusate tosse lui quando lui è in r è un effetto continuo per ogni altra unità in vanguard o retroguardia chiamata snoggle aumenta l'attacco di 1000 ed è comunque buono e ne gioco 4 poi soltanto un apg perché ne ho solo una quindi devo purtroppo riuscire a trovare altre 3 e un pongal pongal perché lo gioco tramite il grado 2 sempre a cane lo potrei prendere se non ce l'ho già nel mazzo tappando un danno c'è quindi counter blast di 1 metto pongal nell'anima se ho un vanguard paradino dorato cerco una carta chiamata drago salva anima la rilevo al mio avversario e la metto nella mia mano e il drago salva anima fa male purtroppo ne ho soltanto uno in teoria vorrei giocarne minimo due perché uno mi è successo di girarlo nei danni al primo turno quindi già brutto quindi vorrei giocarne due di pongal penso di giocare il secondo dov'è qui devo valutare perché comunque si ok tutore abile tramite cane o lo posso già avere in mano però se mi va nei danni come è successo col drago salva anima me la vedo un po' brutta quindi la mia idea sarebbe poi di appena avrei il mazzo completo di togliere o i snoggle oppure i wingle ma non so devo lavorarci sopra poi passiamo ai gradi 2 e anche qui c'è un po' di miscuglio ragazzi perché ho cercato di unire un paio di strategie nella speranza di cercare di portare a questo mazzo un po' più diciamo ad alti livelli perché mi dispiace perché è il mio primo mazzo con cui volevo iniziare a parte Gagero che poi mi sono allontanato ma vabbè dettagli mi dispiace che l'hanno bloccato così tanto perché veramente hanno praticamente bannato un Vanguard e hanno distrutto un mazzo ragazzi è inutile che ci prendiamo in giro purtroppo è così comunque gioco Gordon classico grado 2 8000 che intercetta e va a 10000 nel gioco 2 a me piacciono queste carte tutti i miei deck gioco a meno minimo 2 di intercetto quando vanno a intercettare che aumentano lo scudo a 10.000 perché comunque ragazzi fanno comodo e hanno salvato molte volte il il poi Garmor Cavaliere e Bestia il grado 2 praticamente in automatico quando questa unità viene messa in V e in R se ho un Vanguard paradino reale scarto una carta dalla mia mano un paradino reale e cerco nel mio deck una carta chiamata Snuggle appunto o Brugal e lo posso giocare in una R libera perché serve diciamo lui vi permette di chiamare il grado 1 Snuggle e vi permette diciamo di prepararvi il campo per poi giocare il grado 3 3 poi gioco 2 cane praticamente quando questa unità viene messa in V e in R col counter blast di 2 cerco nel deck una bestia elevata paradino reale e lo scrivo in una R libera quindi capite bene che se voi avete 3 danni e avete cane giocata cane prendete Pongal counter blast di 2 con lei e poi di 1 con Pongal già vi siete messi il Draco Salvanima in mano che è tanta roba anche perché il Draco Salvanima fa male dopodichè gioco 3 10 mira semplici 2 Gallatin perché ha 2 Gallatin e 1 di lui perché è figo anche un po' per per variare la situazione e dopodichè gioco 3 distruttore di lame inutile diciamo dire che è una bella carta in automatico quando viene messo in Vanguard counter blast di 2 e facciamo ritirare una retroguardia all'avversario mentre quando è in retroguardia col counter blast di 2 possiamo far ritirare una retroguardia però deve essere di grado 2 o superiore quindi non un grado 1 o un grado 0 che a volte fanno più male dei gradi 2 o 3 e vabbè poi c'è la versione triple R ragazzi scusate ma non riesco dopodichè passiamo ai gradi 3 e anche qui ragazzi c'è un po' un miscuglio diciamo ho cercato di mettere tutto quello che ho perché ripeto come vi ho detto non è completo allora Gigantech da carica perché l'ho messo comunque è comodo perché è un grado 3 ok è 9000 però quando vi viene messo in V e in R rileviamo la prima carta dal deck e praticamente se non parla di un rilev possiamo schiarare in un R libera allora mia sfortuna becco sempre i trigger quindi con lui evoco sempre gli inneschi sfiga però comunque può fare comodo perché se è girato un grado 3 o 2 comunque ragazzi fa comodo evocarlo subito cioè con una carta ne ha giocato 2 e quindi comunque fa Ganceroth ho lasciato un Ganceroth come ultima risorsa perché se magari non mi giro negri di 3 che mi servono e ho il distruttore di rame gioco Ganceroth sopra lo sapete Contra Brassi di 2 se nell'anima c'è il distruttore di rame lui prende più 5000 più inquidico fino alla fine del turno e comunque può può salvare mentre l'altro effetto quando lo abbiamo in mano lo possiamo rilevare all'avversario e cercare nel deck una carta chiamata distruttore di rame metterla nella mano e mischiare il deck ora questo effetto purtroppo io non lo gioco tanto perché ne ho uno solo di lui quindi comunque non lo getterei a meno che non ho altri che di 3 in mano quindi diciamo ho approfitto di giocarne soltanto una copia per questo motivo perché comunque si ok ho il distruttore di rame ne ho 3 con i 3 wing all'edietro che mi fanno colonna da 20.000 e quindi ho preferito metterne uno anche se comunque appena troverò i 3 giusti lo vado a sostituire poi 2 garmore zanna di ruce e qui è sempre una bella carta durante un effetto continuo durante il mio turno questa unità prende 1000 per ogni unità chiamata snoggle o brugal nella R di norma io ho sempre 3 minimo 2 dietro quindi comunque già 2 mira considerando che i snoggle si bustano a loro volta fa comodo poi come su effetto in automatico scelgo un mio paladino reale lo scarto quando a lui viene messo in V un R se ho un vanguard paladino reale pago il costo e cerco nel mio deck fino a una carta chiamata snoggle o brugal e va scrivendo un R quindi ripeto ragazzi di norma riesco ad avere sempre 3 snoggle dietro se non 3 2 sicuri e ne gioco 2 perché comunque servono lui e vabbè ragazzi l'ho trovato il pendragon cavaliere del drago è bello e purtroppo è monocopia è comunque un bel effetto perché al limit break 4 all'inizio della mia fase principale guardo fino a 5 carte dal mio deck e posso cercare un pari di un reale di credo 3 e convocarlo e mischiare il mio deck comunque ha un bel effetto e poi l'altro in automatico quando viene messo in vanguard questa unità prende più 5 mira ha soltanto una volta l'effetto però comunque col suo limit break 4 è comodo perché posso andare a cercare altre carte scusate alfred purtroppo ne ho uno solo vorrei averne minimo due però purtroppo non ho più non abbiamo più preso bustina della prima espansione ops poi il prima possibile non dico di prendere un box perché se avevo troppe carte che non mi servono quindi magari tenterò sempre in qualche bustina o comunque appena trovo l'opportunità di scambiarlo alfred vabbè ragazzi lo sappiamo non può essere supportato quando viene messo in vanguard prende più 2000 per ogni sua retroguardia paladino reale e in act in vnr counter blast d3 cercano il deck fino a un paladino reale di grado 2 inferiore lo schieno in un r libera e mischia il deck vabbè alfred è forte dopodichè purtroppo in monocopia il drago salva anima che appunto vi ho detto ragazzi si sfrutta la combo di pongal tramite acane quindi se voi non avete subito pongal in mano come vi ho detto se avete acane dovete avere almeno 3 danni counter blast d2 quando viene messo in vnr cercate una bestia elevata ovviamente se non lo avete in mano prendete pongal che quando viene messo in r counter blast d1 e vi mettete in mano di grado salva anima quindi comunque è una bella combo e giro ripeto una mia incertezza è che vorrei metterne 2 di pongal e minimo 2 di grado salva anima quindi devo aspettare le carte ritornando al drago salva anima quando questa unità attacca un vanguard in automatico prende più 3 mira quindi è sempre un 13 mira quando attacca mentre il suo effetto soul charge no soul charge scusate vabbè togliamo 5 carte dall'anima quando questa carta viene messa in vanguard quindi la possiamo attivare soltanto una volta paghiamo il costo scegliamo fino a 3 retroguardie paradino reale ecco le unità prendono 5 mira ora qua ragazzi a me ieri oltre a me ho risolto un dubbio sempre purtroppo dalla traduzione perché comunque l'italiano a volte è antipatico tra virgolette dice quando questa unità viene messa in vanguard puoi pagare il costo se lo fai scegliamo fino a 3 delle retroguardie paradino reale quindi secondo la mia interpretazione significa che i miei 5 mira potrei dargli per 3 volte una retroguardia quindi potrei aumentare il suo attacco di 15 mira però non so se la mia interpretazione è giusta o sbagliata quindi per questo vi dico che in questi giorni stiamo cercando di vedere molti video leggere molti forum per capire bene questa cosa perché secondo me da quello che leggo si può fare ovviamente fino a 3 quindi significa possiamo farne anche 2-1 ma non avrebbe senso dare 5 mila soltanto una retroguardia a meno che non abbiamo solo una però secondo me vigile cosa che se dicono scegli fino a se noi possiamo dare anche i 15 mila totali una retroguardia poi se è vero o non è vero non lo so ragazzi se ve lo sapete o vi siete trovati in una situazione così fatemelo sapere ma secondo me da italiano che sia lo interpreto così poi ripeto posso anche sbagliarmi ragazzi la tech list è finita purtroppo vi ripeto non è completa perché in teoria allora garmore è sicuro da parte mia poi vorrei aggiungere 2 minimo drago salva anima perché purtroppo mi è successo anche di girarlo al primo danno che ovviamente andrei a sostituire al gigantech e minimo 2 alfred che toglierei o oseroth o pendragon o addirittura avere 3 drago salva anima o 3 alfred questo è anche da diciamo un po' decidere perché ragazzi io ho delle carte che sono riuscito a farmi scambiare sono delle carte promo che praticamente giocano con alfred allora cioè nel senso che o il giovane alfred è un grido 3 da 10 mira dice quando quest'unità viene messa nel vanguard scegli fino a una carta di struttura delle rame dalla tua anima e schierai in una r quindi sarebbe comodo perché diciamo giocare 4 distruttura delle rame o comunque 3 se facciamo la convocazione abbiamo il grido 2 mettiamo lui e praticamente ci spostiamo un distruttura delle rame e lo mettiamo in un r quindi avendo il wingal già sappiamo che abbiamo una corona da 20.000 ne avevo un mio amico ne aveva soltanto 2 e me ne sono prese al volo poi ho il stallone con il nero di leone è una bella carta gioco ovviamente sempre da avere anima piena praticamente perché con il counterbust no counterbust si ciao togliendo una carta dall'anima quando quest'unità supporta un'unità con alfred nel suo nome possiamo pagare il costo e quella unità prende più 6.000 quindi comunque anche in questa situazione avremo un 20.000 ok togliamo una carta dell'anima ma comunque con gli inneschi pescata o risvegli possiamo caricare sempre l'anima in quel caso io giocherei 4 pittrice dei sogni credo uno che quando viene convocato possiamo caricare l'anima eccola qui e nel giocare 4 perché le ho ovviamente mi andrei a togliere la combo dei snoggle o comunque marron non so dovrei vedere e e quindi comunque già avremmo una corona a sinistra col distruttore di rame di 20.000 lui che comunque con togliendo una carta dall'anima andrebbe anche a 20.000 e sarebbe una bella cosa e sto valutando ripeto vorrei aggiungerle veramente però vorrei avere a meno un altro alfred e a meno un altro drago salvanima perché così magari o toglierei la combo di karmor e quindi vorrei avere a meno un altro di drago e un altro alfred oppure andrei a levare due fra queste tre carte quindi o gansroth ma potrei anche decidere di tenerlo non so il pendron perché si è una bella carta ma ne ho soltanto uno e vabbè il gigantec così tanto per quindi appunto mi dispiace purtroppo ancora non le ho comprate soprattutto con il paradino reale però diciamo sto valutando anche perché ragazzi ripeto sto cercando di trovare la combinazione giusta per riportare questo mazzo veramente ai livelli magari all'inizio che non è così forte però è tosta è tosta niente ragazzi scusate ma devo per forza chiudere il video perché ho la gola praticamente che mi gratta in continuazione perché come ho detto sto male io devo valutare bene come farlo se voi avete qualche consiglio fatemelo sapere nei commenti e come sempre ragazzi commentate condividete mi raccomando like per supportare la serie e niente ragazzi penso per quest'altra decklist è tutto a breve poi ci saranno le altre che mi avete richiesto che ci avete richiesto e niente ragazzi un saluto Monica ciao Argo alla prossima ciao ciao ciao